Questa notte a Cinto Cao Maggiore si è verificata una tragedia quando un padre poco prima di mezzanotte ha gettato la sua bambina di 5 anni dal terrazzo e successivamente ha cercato pure lui di gettarsi suicidandosi. I rumori hanno destato l'attenzione dei vicini in via Tieplo che hanno prontamente chiamato i soccorsi, le ambulanze da Porto Gruaro a Caorle sono intervenute sul luogo trasportando la piccola con un codice rosso all'ospedale Caffoncello di Treviso a causa di un grave trauma cranico, mentre il padre è rimasto praticamente illeso. I carabinieri hanno arrestato l'uomo con l'accusa di tentato omicidio, i vigili del fuoco di Porto Gruaro sono intervenuti anche per aprire la porta di casa sospettando la presenza di altri occupanti. L'uomo, separato dalla moglie, aveva la custodia della bambina durante le festività natalizie.